Dopo aver trascorso la notte assieme, al mattino lui l'ha improvvisamente aggredita e rapinata. Per questo è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Cortona. È successo a Fogliano lunedì scorso. I due, lui 32enne albanese e lei una giovane domenicana, si erano conosciuti in un nightclub. Dopo aver bevuto un drink avevano deciso di trascorrere la notte assieme. Ma al mattino, l'amara sorpresa per la ragazza, l'uomo infatti ha iniziato a minacciarla per farsi dare il denaro che aveva nel portafogli. La donna ha anche tentato di difendersi, ma il 32enne l'ha aggredita con calci e pugni, scappando dopo aver preso i contanti che aveva. La ragazza, spaventata, ha così chiamato il 112 e i militari della stazione di Fogliano l'hanno subito raggiunta assieme ad un'ambulanza. Ricoverata in ospedale, ha riportato escoriazioni e lesioni fortunatamente non gravi. I carabinieri si sono subito messi sulle tracce dell'aggressore e dopo aver ripercorso il tragitto e descritto, e dopo accurati accertamenti, sia attraverso la raccolta di testimonianze che visionando le telecamere della zona, sono riusciti ad individuare la macchina del ragazzo, grazie alla quale sono poi risaliti alla sua identità. La conferma è arrivata anche dal riconoscimento effettuato dalla vittima. Il ragazzo, residente ad Arezzo, è noto alle forze dell'ordine per precedenti per furto in abitazione e reati inerenti agli stupefacenti. Il ragazzo, residente ad Arezzo, è noto alle forze dell'ordine e reati in abitazione. Grazie. Grazie.